Incrocio di sentieri nelle Serre Calabre. Su questo tema si è centrato l'incontro a Serra San Bruno presso la sede del Parco Naturale Regionale delle Serre, tra lo stesso parco e il Club Alpino Italiano. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con l'associazione Incrociamenti Calabre Verde di comuni di Serra San Bruno, Badolato, Brognatura e Guardavalle, in occasione della visita del CAI, sezione di Padova, al Parco delle Serre. E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il CAI Calabre e il Parco Naturale Regionale delle Serre, culminato anche con il gemellaggio tra le sezioni CAI di Caranzaro e CAI di Padova e la presentazione della sottosezione CAI Serre Calabre. L'incontro, la presenza delle massime autorità, sia istituzionali che dei vertici CAI, si è conclusa con la presentazione del lavoro, risorse, naturali e tradizioni nel Parco Naturale Regionale delle Serre, realizzato a cura di Bruno Tripodi, fotografo e documentarista. Significativa la presenza di una delegazione del CAI di Padova che fino a domenica, con un suo gruppo operativo, è presente nel Parco delle Serre, impegnato in una serie di attività giornaliere che toccheranno i principali centri intorno all'area del parco e non solo. La delegazione del CAI di Padova, infatti, dopo aver già visitato il Museo delle Certose e quello delle Ferriere di Mongiana, il sentiero Fassati e il tratto della sentiero Linivieri fino al lago della Racina, ha in programma anche la visita ai siti archeologici di Scolacium e Locri, la Cattolica di Stilo e le cascate del Mar Marico a Bivongi, prima del rientro a Padova. Primi atti concreti dunque per la soddisfazione del commissario del Parco, Alfonso Grillo, che nota con piacere la concretizzazione del protocollo di collaborazione e saluta con compiacimento la costituzione del CAI Serre Canabre, quali risultati concreti in linea con il programma di rendere attivo e sempre più fruibile il Parco delle Serre. Alfonso Grillo ha colto l'occasione per un ringraziamento all'Associazione Incrociamenti di Serra San Bruno e al suo presidente Maurizio Manno, auspicando inoltre che presto arrivi il riconoscimento della sezione autonoma CAI delle Serre Canabre.